Giorgio, cos'hai combinato? Adesso la senti mamma? Non l'ho fatto apposta Adesso ti punirò di sicuro Ti lascio senza dolci per tutta la settimana Io me ne vado di casa Vieni con me, dinosauro Non ti preoccupare, ci troveremo una nuova casa Dove nessuno ci punirà mai Mi porto dei biscotti per i primi tempi E va bene Ciao Peppa Io me ne vado Aspetta, dove andare? Ui, e questo cos'è? Giorgio ha rotto un uovo Peppa, potevi aiutare il tuo fratello piccolo a pulire tutto Giorgio, figliolo Vieni qui Mamma, Giorgio se n'è andato di casa Come se n'è andato di casa? Dobbiamo subito trovarlo Caro Cosa è successo? Giorgio, se n'è andato di casa Prepariamoci subito e andiamo a cercarlo Ci servirà una torcia Non ho presa io Forse dobbiamo chiamare la polizia Cosa facciamo? Cosa facciamo? Aspetta mamma Giorgio non può essere andato lontano Sentite? Andiamo a sentire Oh, l'avevo detto io che non poteva essere andato lontano Figliolo, ero tanto preoccupato per te Perché volevi andare via di casa? Avevo paura che mi avresti punito per l'uovo rotto Ma non è successo niente di grave Bastava pulire tutto Jesse, vieni qui Vieni, mangia Giorgio, a cosa ti serviva l'uovo? Volevo prendere il latte e per caso l'ho fatto cadere Dovevi chiedere? Ti avrei aiutato Biscotti ne sono rimasti Adesso li porto Ecco Giorgio, scusami Dora in poi ti aiuterò a pulire Grazie Peppa Il latte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti